Annuncio tragico su Caroline Smith, pubblico sconvolto e in lacrime. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Purtroppo, abbiamo ricevuto delle notizie davvero cupe riguardo a Caroline Smith, notizie che hanno fatto ecco attraverso i principali canali di comunicazione. È un fatto che ha lasciato tutti noi con un senso di sgomento e tristezza profonda. La vita di Caroline Smith è stata travolta nel 2015 quando le è stata diagnosticata una forma di cancro al seno maligno in modo improvviso. Recentemente, Caroline Smith ha condiviso con noi un discorso toccante e lungo durante un'intervista concessa al settimanale Gente insieme a Sabrina Bonalumi. Le sue parole, purtroppo, hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutti gli spettatori, lettori e utenti. Nel corso dell'intervista, Caroline, nota giurata nel programma di danza di Micolucci, ha condiviso l'inaspettata notizia che il cancro al seno, contro cui sta lottando dal 2015, è riemerso per la terza volta nello stesso punto. Ha descritto questa situazione come se il cancro stesse giocando a un eterno gioco del nascondino, ora scomparendo, ora riapparendo. Attualmente, Caroline Smith sta affrontando un trattamento di chemioterapia ogni tre settimane. Le parole pronunciate durante l'intervista sono state davvero potenti, e Caroline ha detto, è la prima volta, in tutti questi anni, che sono rimasta così colpita. Non avrei mai immaginato di dover affrontare una chemioterapia così intensiva rispetto ai trattamenti iniziali. All'inizio di questo percorso, ero più ingenua. Ora, dopo aver vissuto e sperimentato così tanto, anche solo per un breve istante, il mio spirito combattivo rimane saldo e inalterato.